Bene, amici del Sunnyside Up, abbiamo lavorato molto bene di gambe. Anche se, Meg, tu rispetto agli altri sei stata più lenta nelle rotazioni. Scusa tanto, caro. Oh, è vero, ma sembrava che ti stessi divertendo. Ed è questo l'importante. Giusto, Apti, bello? Divertersi! Sì, è giusto, Benedict. È giusto. Ehi, amici, Orsetto ha avuto un'idea fantastica. Io non ne sono tanto sicuro. Voi del club siete bravissimi. Perché non organizzate un bello show per tutta la foresta? Ehi, questa sì che è una grande idea. Beh, mettere su uno show sembra divertente. Che ne dici? Non ne sono sicuro. Vedi, dovremmo fare tantissimo esercizio. Penso che abbia ragione. Meglio non fare movimenti che potrebbero strapazzarci. Oh, andiamo, Amtibello. Coraggio, mettiamo su questo show. Perché non mi si graffi il guscio? Io...